Amici dei miei amici, buonasera. Stiamo riordinando io e la Dolly un po' di fotografie. Alla Dolly piacciono molto le fotografie. Ma no, Dolly, le fotografie non si mangiano, si guardano. Questa poi è la fotografia di un animale abbastanza raro. Ma è un cane? Sì, è un cane, d'accordo. Ma è un cane eccezionale. Il cane Samoyedo. Samoyedo? Ma è senso. Sì, Samoyedo. Adesso lo vediamo, eccolo. Il Samoyedo è un fortissimo lavoratore, perciò rappresenta un aiuto prezioso per l'uomo che vive nelle regioni polari. Anzi, in certe zone, esso costituisce l'unico mezzo di locomozione. Dolly, vieni? Voglio farti provare un viaggio in slitta. È emozionante, vedrai. Ecco qui la nostra slitta. Sieli, giù, brava, brava. Sono molto forti questi cani. Il cane Samoyedo è dotato di una forza eccezionale. Una muta di sei cani attaccata a una slitta è in grado di trainare un carico di diversi pintali e percorrere fino a 30 chilometri al giorno, anche in piena bufera. Non così piano come vanno adesso, eh. Cosa ne dici, Dolly? Ti piace il cane Samoyedo? Sì, ma ho un freddo cane! Eppure pensate che quando il viaggio è terminato, il nostro amico scava una tana nella neve e si riposa senza bisogno di mettersi a riparo. La natura lo ha dotato di un doppio pelame, che costituisce praticamente una copertura termica. Torniamo a casa? La natura si difende e gli uomini devono imparare dalla natura. Contro il gelo non c'è niente di meglio di un buon cappotto. Perché con il termocappotto il freddo è salute. È salute! Il termocappotto è confezionato dall'Evole e porta la firma ad un grande maestro di moda. I modelli del termocappotto li ho creati in esclusiva assoluta con tessuti termici. Perfetto nella linea e nel taglio, il termocappotto, l'Evole, è la più elegante risposta all'inverno. È foderato in Benberg e lo troverete a prezzo controllato nei migliori negozi.